Chiedi a noi diritti e tutela torna questa settimana per parlarvi in apertura di diritto sanitario. In questa particolare puntata ci occuperemo, grazie al presidente dell'Associazione Difesa Salute, l'Avvocato Giuseppe Placentino, di primariato e carriera in ambito sanitario. Ascoltiamo. Eccoci qui con Difesa Salute a parlare di argomenti di diritto sanitario e non solo. Devo muovere una critica forte a un modo di intendere la professione medica che secondo me non è giusto, non è corretto. Alcuni ospedali che non hanno un collegamento con le aziende universitarie non vengono considerati alla stregua di altri, non so come, di uguale importanza. Perché faccio questa osservazione? Perché proprio un medico, un primario di un ospedale a me vicino ha sostenuto di volersi trasferire da quell'ospedale, non perché questo ospedale di ricovero e cura a carattere scientifico non fosse all'altezza per le qualità umane del personale e per la qualità in sé della struttura di quel ruolo, di quella funzione, ma perché a parere di questo primario non gli garantiva un curriculum universitario. Io dico che questo è un ragionamento che presta il fianco a delle critiche, perché non è certo il curriculum, è importante, noi sappiamo per i medici e per i chirurghi avere esperienze, anche insegnare, però la domanda è più importante un medico, un chirurgo che opera tanto nell'anno, che ha una frequenza di operazioni nell'anno o un chirurgo che è bravo ad insegnare alla facoltà di medicina e chirurgia? Metto un grande punto interrogativo. Quindi per me bisogna stare attenti quando si dicono queste cose e io volevo proprio approfittare di questo appuntamento televisivo per criticare questo comportamento e per sollecitare i telespettatori ad una riflessione. Non soltanto gli ospedali a carattere universitario sono quelli all'avanguardia, bisogna vedere caso per caso, magari ci possono essere ospedali che si sono specializzati in una branca della medicina, oppure ospedali che stanno portando avanti dei trial clinici in una determinata materia, oppure ospedali che si trovano in contesti, in regioni più sviluppate rispetto ad esempio a quelle meridionali, questo sì, questo è un ragionamento corretto, però addurre come motivazione di spostamento, di richiesta di trasferimento il fatto che un ospedale non sia accreditato con l'università presta il fianco a delle critiche, perché è un argomento che ho già affrontato altre volte, la valutazione di un ospedale non è fatta per punire l'ospedale stesso, quindi non serve a punire chi sbaglia, ma serve a migliorare. Quindi Difesa Salute sostiene questo, la valutazione dell'assistenza ospedaliera non serve per punire, ma serve per aiutare nel migliorare. Ora, l'efficienza ospedaliera può essere vista da vari punti di vista. Il primo punto di vista che ci pare il più importante è quello del paziente, ma poi abbiamo altri punti di vista e sono il punto di vista dell'operatore sanitario, che può essere l'infermiere, l'os, il medico, e il punto di vista amministrativo. Andiamo ad analizzare questi punti di vista. Per quanto riguarda il punto di vista del paziente, al paziente interessa l'umanizzazione della cura. Padre Pio avrebbe detto il francescanesimo militante, quando nel 5 maggio 1956 all'inaugurazione della Casa Sollevo della Sofferenza parlò proprio di questo, un esempio, questa pupilla dei suoi occhi di francescanesimo militante. Quindi al paziente interessa, da questo punto di vista, l'umanizzazione delle cure, l'attenzione, la personalizzazione dell'assistenza. E questa è una giusta valutazione, cioè la cortesia, i tempi di attesa, le condizioni, anche alberghiere, perché dovete sapere, e penso che l'avete capito, che il contratto di spedalità è un contratto che offre anche una prestazione di carattere alberghiero, perché oltre all'assistenza sanitaria bisogna pernottare, cioè il vitto e l'alloggio. Questo è il punto di vista del paziente. Però esistono altri punti di vista. Per quanto riguarda il punto di vista degli operatori sanitari, quindi dei medici, degli infermiere, dei tecnici, degli os, dei paramedici, essi giudicano gli aspetti tecnici, cioè se i trattamenti sono stati pertinenti e corretti, quindi vanno a giudicare la sostanza ospedaliera. Ma un altro punto di vista che va tenuto conto è quello amministrativo, cioè quello di giudicare l'efficienza in base ai rapporti tra i costi, i benefici e le modalità di utilizzo delle risorse. Ora, negli ultimi anni, con l'introduzione dei DRG, è cambiato molto. E quindi questo aspetto di valutazione ospedaliera, dal punto di vista amministrativo, è diventato molto importante. Prima, userei questo verbo, pascolavano i degenti. Venivano, purtroppo questo era un bel costume, venivano lasciati in ospedale, negli ospedali accreditati, perché ogni giorno corrispondeva a un rimborso da parte della regione, perché in Italia non abbiamo un unico servizio sanitario nazionale, ma tanti servizi sanitari quanti sono le regioni. Quindi c'era un certo lassismo. Da quando sono stati interrodotti i DRG invece è cambiato, è cambiato il sistema, cioè la regione rimborsa in base agli interventi e ad ogni intervento è rapportato un coefficiente. Se faccio un esempio, per una operazione di appendicite sono necessari tre giorni, quindi l'intervento è tre giorni, questa è una ipotesi, verrà data una somma X tot all'ospedale. Se l'ospedale sfora i tre giorni per un qualsiasi motivo, ovviamente non gli verrà rimborsato, quindi andrà in passivo. Ecco perché spesso ci sono stati casi negli ospedali di forzature e persone che magari con un po' di febbre sono state mandate via. Ecco, questo vuol dire che l'aspetto di valutazione dell'efficienza ospedaliera dal punto di vista amministrativo la fa da padrone. Quindi ultimamente si vanno a valutare i costi e i benefici. E un'altra critica a questo punto, visto che durante questa puntata non sono parco nel criticare alcuni aspetti del sistema sanitario, riguarda anche la valutazione dei cosiddetti primari o dirigenti delle unità operative complesse. Spesso il primario è un manager, non è il migliore medico a disposizione del reparto e viene valutato in base a, questo purtroppo lo dobbiamo dire succede in molti ospedali, in base alle capacità di diminuire i costi, di portare benefici, di portare in quel reparto quanta più gente possibile, perché purtroppo vengono considerati degli utenti anche dei numeri, e questo lo dobbiamo dire con tutta franchezza, e bisogna quindi tenere presente che la figura dei primari e dei dirigenti va valutata sempre con le pinze. Non è il più bravo colui che appare ad esempio o in televisione o ha una grande visibilità nei mass media o perché è conosciuto in un ampio consesso, bisogna vedere, ci sono primari che sono più riservati, lavorano anche in piccoli ospedali, ma sono bravi, hanno una certa esperienza che magari nell'ambito della medicina è molto importante. Quindi ripeto, molta attenzione quando valutate un ospedale, la valutazione deve essere complessiva. Se poi avete avuto un'esperienza negativa, non vi limitate a dire no, quell'ospedale non va bene perché purtroppo nella mia esperienza umana non ha avuto una giusta e corretta, non sono stato fortunato. La valutazione va data nel complesso. Evitate i facili giudizi. Questo è un consiglio che do, ovviamente anche a me stesso. Grazie Avvocato Placentino, torneremo ancora su queste tematiche la settimana prossima. Intanto però vi ricordo le possibilità che avete di contattare la nostra redazione per porre i vostri quesiti e per suggerire i vari temi che di volta in volta andiamo a proporvi. Ebbene, nella seconda parte di Chiedi a noi torneremo in compagnia del Dottor Massimiliano Casto, esperto in diritto tributario. Per parlare da qui ad una serie di puntate sulle tasse della casa. Sono diverse le situazioni che andranno di volta in volta analizzate e questa settimana inizieremo parlando dei rifiuti. Carissimi amici, bentornati all'appuntamento con il Fisco. In questa puntata iniziamo un percorso per affrontare in maniera molto dettagliata un argomento molto spinoso. Parleremo delle tasse sulla casa. Partiremo come oggi dalla tasse rifiuti per poi parlare di Imo e parlare di tassi. Infatti queste tre tasse sono le tasse per eccellenza che appunto gravitano sull'immobile, sul bene più prezioso degli italiani. Dicevo un argomento appunto spinoso perché quando poi appunto si parla del bene più prezioso per gli italiani, quindi appunto l'applicazione principale, la proprietà per eccellenza, quindi quando si affrontano questi tipi di argomenti l'argomento in effetti diventa molto pungente. Queste tre tasse appunto sono tutte tasse di natura locale, quindi vengono disciplinate da ogni singolo comuni. Ma andiamo per ordine. In questa puntata appunto affrontiamo l'argomento della famosa Tari, la tassa sui rifiuti. Sappiamo che il presupposto per quanto riguarda la tassa rifiuti, quindi la Tari, è il possesso, la detenzione di qualsiasi immobile che sia idoneo a produrre rifiuti. Però dobbiamo fare una distinzione molto importante dal punto di vista tributario che appunto è disciplinato dal decreto legislativo 446 del 97 che è appunto regolamentato questa tassa rifiuti. Dicevo le utenze domestiche dalle utenze non domestiche. Lo dice la stessa parola, l'utenza domestica è quell'abitazione che appunto è idoneo a produrre rifiuti perché appunto magari è abitato oppure è soltanto arredamento all'interno, quindi idoneo a produrre dei rifiuti. E poi ci sono tutte le utenze non domestiche, quindi quando parliamo di studi professionali, quando parliamo di attività commerciali oppure di attività artigianali. C'è una particolarità per quanto riguarda la tassa rifiuti, la famosa dichiarazione che magari tanti tengono a sottovalutare. In effetti entro il 31 gennaio di ogni anno quando c'è stata una variazione che potrebbe essere una variazione semplicemente nella malattatura che è appunto il peso opposto per cui deve essere pagata la tassa rifiuti oppure c'è stato un cambio di residenza oppure un acquisto oppure una vendita di un immobile allora questa deve essere comunicata al comune con un'apposita dichiarazione con appunto anche l'apposita motoristica a disposizione di ogni singolo comune e dovranno essere indicati i dati catastali dell'immobile e la data da cui decorano queste modifiche che potrebbe essere anche addirittura un acquisto oppure una vendita di un immobile. Ovviamente se non viene fatta questa dichiarazione il comune continuerà a farvi pagare sulla base dei dati che sono in possesso dall'ufficio tributi del comune dove esiste l'immobile. Vediamo quali sono le cause di esclusione perché appunto questo decreto legislativo 446 del 97 disciplina quali sono delle cause, queste naturalmente vengono date come indirizzo generale perché come abbiamo accennato la tassa rifiuti viene disciplinata con delibera del Consiglio Comunale quindi sia per quanto riguarda la tariffazione ma anche per quanto riguarda la regolamentazione comunale. In linea generale il decreto legislativo 446 del 15 dicembre del 97 ha determinato, ha dato delle linee guida sulle esclusioni. Per esempio quando c'è un'abitazione con un unico occupante quindi mi riferisco soprattutto agli alzari che magari abitano da soli allora questi hanno diritto ad una esclusione del pagamento della tassa rifiuti oppure in alcuni casi in alcuni comuni italiani ad una semplice riduzione della tariffa. Però prima di andare avanti è opportuno che vi consigli di sempre telefonare all'ufficio tributivi del Comune per vedere se questa esclusione è contemplata anche nel vostro Comune oppure per chi ha dimestichezza con Internet basta collegarsi nel sito istituzionale del Comune dove appunto c'è la regolamentazione della tassa rifiuti che appunto deve essere approvata da ogni singolo Comune italiano. Poi un'altra esclusione molto importante riguarda tutte le abitazioni che sono tenute a disposizione quindi mi riferisco a quelle soprattutto per un uso stagionale o comunque un uso limitato o discontinuo nel tempo quindi potrebbe essere la casa per veleggiatura, la casa che utilizziamo per andare a mare, la seconda casa per eccellenza. Quindi comunque si tratta di un edificio, di un immobile destinato ad un uso limitato nel tempo allora la tariffazione è destinata ad una riduzione sicuramente per ogni immobile di cui abbiamo la proprietà. Poi tutte le abitazioni che sono occupate da soggetti che risiedono all'estero però che abbiano per più di sei mesi all'anno la residenza all'estero per motivi di lavoro, per motivi di studio, allora in questi casi il Comune può contattare anche per questa tipologia di immobile una riduzione della tariffazione della tariffazione della tasse rifiuti. Infine tutti i fabbricati rurali che vengono destinati comunque ad un uso abitativo allora anche per questi casi molto spesso i comunitariani regolamentano una esclusione oppure anche una semplice riduzione anche consistente della tariffazione del pagamento del tributo della tasse rifiuti. Infine c'è da dire che una cosa molto importante a fine della base a fine del calcolo della tasse rifiuti che è l'osservatorio del mercato immobiliare quindi l'organismo che appunto ha il dovere di monitorare l'andamento della valutazione del prezzo degli immobili ma anche la tariffazione per quanto riguarda la tassazione della prima casa ma anche delle seconde case quindi del mercato immobiliare in generale ha determinato una cosa molto importante perché questo infatti è una cosa che deve essere sempre tenuta presente cioè che la superficie che deve essere tassata a fine della tasse rifiuti quindi deve essere utilizzata dal comune per appunto mandare il classico bollettino di conto oriente per chiedere il pagamento della tasse rifiuti quindi la superficie su cui deve essere tassata la casa è la superficie utile calpe stabile cioè quella superficie che è al netto dei muri interni quindi quello effettivamente calpe stabile ma anche al netto dei pilastri di tutti quei muri perimetrali ecco questo è di fondale importanza perché comunque è sempre motivo di contenzioso la metratura a base di calcolo che utilizza il comune molto spesso il comune prende come riferimento i dati catastali quindi la superficie catastale che è già in possesso dell'ufficio catastale però molto spesso questi metri quadrati sono sbagliati quindi vi consiglio quando arriva l'invito a pagare della tasse rifiuti verificare la metratura che è indicata per cui il comune vi sta chiedendo il pagamento e verificare che questa metratura sia effettivamente quella che è utilizzata quella che viene appunto calpe stata e l'osservatore utilizza il termine la superficie utile calpe stabile poi un'altra cosa molto importante che è stata disciplinata dal decreto legislativo che appunto ha disciplinato la tassa rifiuti è che c'è anche l'escursione per tutti quei locali che hanno un'altezza inferiore a un metro e cinquanta mi riferisco soprattutto a locali di magazzino oppure a sgabuzzini che potrebbero essere utilizzati comunque dai proprietari però per il solo fatto che hanno un'altezza inferiore a un metro e cinquanta naturalmente per questi i piccoli immobili che potrebbero essere di Canerotti, potrebbero essere dei pallatoi comuni o comunque dei semplici ambienti che sono comunque fruiti dal luogo familiare però c'è l'escursione totale dal pagamento della tassa rifiuti vediamo invece come si effettua il pagamento questo cambia da comune a comune perché tantissimi comuni in Italia ormai chiedono il pagamento della tassa rifiuti attraverso il famoso modello F24 che è il modello utilizzabile per il pagamento delle imposte e delle tasse che è possibile reperire in qualsiasi ufficio postale ma anche in qualsiasi sportello bancario e poter effettuare il pagamento questo pagamento può essere effettuato anche tramite servizi interbancari internet banking appunto comodamente da casa per chi ha dimestichezza con internet è il conto corrente online, basta compilare questo modello F24 con i dati, con i codici che vengono forniti dal comune di riferimento un altro metodo di pagamento ancora molto usato in tanti comuni italiani è il classico conto corrente, il bollettino MAP che appunto viene recapitato a casa dal comune per chiedere il pagamento della tassa rifiuti per quanto riguarda le scadenze, normalmente i comuni chiedono la scadenza o in due o in quattro rate normalmente i comuni la prima rata la chiedono con il mese di marzo ma questo ripeto, visto che comunque la trifazione della tassa rifiuti viene regolamentata con una delibera del Consiglio Comunale quindi per quanto riguarda le scadenze è sempre necessario verificare cosa prevede il vostro comune e dove c'è l'immobile per cui deve essere pagato il tributo ovviamente è possibile la ratezzazione, ovviamente è possibile anche pagare un'unica soluzione utilizzando la prima scadenza utile come se si pagasse la prima rata un'altra particolarità, il famoso cassonetto punto di riferimento per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti quindi distante dall'abitazione, quindi da dove viene utilizzato questo viene regolamentato da ogni singolo comune normalmente quando il punto di conferimento, quindi il classico cassonetto o i cassonetti per quanto riguarda l'utilizzo della differenziata sono distanti normalmente un chilometro questo mi preferisco soltanto alle abitazioni che magari si trovano fuori città o in delle contrade allora quando questo punto di conferimento è distante almeno un chilometro allora il comune può concedere a questa famiglia che ha questa difficoltà una riduzione della tariffazione della tassa di rifiuti però anche in questo caso ovviamente bisogna sempre consultare l'ufficio tributo per verificare a quanto ammonta questa riduzione per quanto riguarda questo tipo di immobili un'altra particolarità molto importante per tutti quegli immobili che non sono utilizzati quindi ovviamente a fine della prestazione della tassa di rifiuti per non utilizzati significa che non ci siano degli immobili non ci siano dei mobili, non ci siano dei superlitti quindi non ci sia nessun tipo di arredamento allora in questo caso non si deve pagare la tassa di rifiuti ovviamente bisogna fare istanza al comune il comune manda una verifica per appunto accertarsi che in questi immobili non ci sia arredamento non ci sia nemmeno un eventuale allaccio di una pubblica fornitura che potrebbe essere elettrica o idrica quindi il presupposto per il pagamento della tassa di rifiuti cioè l'utilizzabilità dell'immobile cade ovviamente quindi perché quell'immobile non è più idoneo a produrre rifiuti ovviamente bisogna fare un'istanza il comune dopo aver accertato che appunto l'immobile non vede utilizzato quindi cancella l'immobile dagli archivi per cui deve essere pagata la tassa di rifiuti ovviamente deve essere sempre documentato anche eventualmente con una bolletta in cui si deve che non c'è più l'utenza idrica o elettrica quindi appunto non è più utilizzabile quindi quell'immobile non è idoneo a produrre dei rifiuti bene per oggi è tutto nelle prossime puntate appunto affronteremo ancora l'argomento di tasse sulla casa affronteremo l'argomento di Imo e Tasi l'Imo sapete che è quel tributo che appunto colpisce la proprietà per tutti quegli immobili ormai soltanto per le seconde case ad eccezione delle categorie che è stati a 1, 8 o a 9 e che è subentrata dopo l'abolizione della vecchia Ishi e poi parleremo anche della tassa questa nuova tassa già in piccola da qualche anno la tassa sui servizi indivisibili che è a carico sia dei proprietari ma anche degli inquilini bene per oggi è veramente tutto alla prossima settimana e vi ricordo ancora l'appuntamento per quanto riguarda tutti quegli amici che ci vogliono scrivere e vogliono delle delucidazioni oppure ci vogliono esporre il loro problema potete scrivere alla mia mail oppure a quella della redazione io sarò felice di rispondere a tutti grazie alla prossima settimana e con questo è tutto torneremo ancora insieme la settimana prossima